Ministro, la Sicilia è stata una delle regioni più colpite dalla crisi pandemica. Qual è il piano del governo, in questo caso del suo ministero, per rilanciare le sorti non soltanto dell'isola ma per l'intero mezzogiorno? Intanto il primo passo importante è rappresentato dall'accelerazione della campagna vaccinale. Questo naturalmente consentirà a tutte le regioni di riaprire e di riaprire in sicurezza. Allo stesso tempo il piano nazionale di ripresa e residenza ci consente di investire risorse importanti nel mezzogiorno. Una parte di queste risorse sarà intercettata dalla Sicilia e servirà a potenziare le infrastrutture, a valorizzare le aree portuali e retroportuali e accanto al PNRR naturalmente cercheremo di trovare altre linee di finanziamento per potenziare quelle infrastrutture e soprattutto quelle di aree e ferroviarie che non hanno trovato spazio nel piano nazionale di ripresa e residenza. Grazie.